Barco, Rifredo di Mugello, 22 luglio 1916. Egregia Sibilla, vorrei scrivervi ma non posso. Sono orribilmente annoiato. Conoscete Walt Whitman? Non capisco come facciate a vivere a Firenze e a conoscere certa gente. Non parlo di cecchi che stimo e di baldini. Studierò un tipo di voi. Bisognerebbe che avessi il vostro ritratto. Guardatevi da San Francesco. Una pecorella e voi? Vi preferisco così. Mi avete riconosciuto per italiano. Credo, Egregia Sibilla, che non avrò eredi. Anderò col mio famoso fardello dove anderò. Finita la guerra non esisterò più. Ammesso che esista ancora. Vi prego, se potete, di trovare qualche acquirente per il mio libro. Lo invierò immediatamente. Vi bacio la mano. Dino Campana Burgo San Lorenzo Grande, deserta. Gli ospiti me l'han lasciata durante questa loro assenza per due settimane. Caro Campana, sono vicina a San Francesco perché, nata signora, mi son spogliata via via di molte cose. Felice, felice d'essere povera e ignuda, vi parafraso. Ma non temete per il mio spirito. E ho amato Walt Whitman come pochi altri. È già tanto tempo. Vi mando qualche mio vecchio articolo. Giornalismo, non altro. Ma in uno parlo appunto, come potevo farlo allora, con ingenua gravità di Walt. E in un altro, più recente, di Assisi. E in un altro ancora, della Provenza e di Parigi. Poi un brano d'autobiografia, ricordi d'infanzia. Metto anche una pagina che è un poco più che giornalismo e che sarei contenta se voi leggeste con adesione. È di questo inverno. Volevate il mio ritratto e invece vi mando delle parole stampate. Ma le fotografie non mi somigliano. Ci vedremo una volta. Forse mi avete conosciuta in essenza, in un lampo. Se va toccato qualche mio piccolo accento, e tutto il resto vi confonderà. Però siete annoiato. Dubitate quasi d'esistere. Mi mettete nella tremenda alternativa di veder finire Campana con la guerra, o di dover desiderare che la guerra si perpetui. Non vi diverto, è che sono un po' assonnata. Ho scritto a varie persone che mandino a chiedervi il vostro libro. Spero che qualcuno almeno mi ascolti. Mandatene due copie a me. Ne regalerò una con l'altra che già possiedo, e una la terrò, se ci mettete il vostro nome e il mio. Ho dato a tutti l'indirizzo di rifredo. Avvenite alla posta, se partite. Addio. Vorrei, in questi quindici giorni, mandare innanzi un libro incominciato da tanto tempo, e a cui lavoro soltanto di dentro. A Firenze traduco dal francese articoli di politica. Vedete che questa mia lettera non somiglia alla prima. E così i ritratti non mi somigliano. Mai. Scrivetemi. Sibilla Aleramo Non mi sembra. Grazie a tutti.